Scoperti nel sito archeologico di Pestum, due nuovi templi greci in stile dorico. Le strutture si trovano nella zona occidentale dell'antica città di Poseidonia, a ridosso delle mura cittadine e a poche centinaia di metri dal mare. Il primo tempio, risalente ai primi decenni del V secolo a.C., rappresenta un unicum nell'architettura templare dorica. I templi di Pestum, costruiti tra il 500 e il 450 a.C., dai coloni della Magna Grecia, sono in ottimo stato di conservazione e attirano ogni anno migliaia di visitatori.